Per il soggetto di 4 anni sono in 12 concorrenti alla via Pepperwise per Elisa Matley, Polar Liss, Planeta Bag, Patigo, Paolo Kaff, Prodizio in seconda, Peter Prio, Passione Car, Patrio Wise, Piccaccio, J-Day e Perfect Show. Sbaglia Polar Liss, anche niente prima dello stacco. Prende velocità all'autostarto che scatta in questo momento. La rettura di Paolo Kaff si avvantaggia Planeta Bag con una rigasse Prodizio lungo la corda Totoro Wise, allargo Patigo, primi 200 metri per Planeta in 13,6. L'esergo Prodizio davanti a Pepperwise, allargo avanza Patigo, all'esterno anche Piccaccio, J-Day. Siamo all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune con Planeta al comando. Tatti all'esterno di ventre Prodizio, poi Pepperwise con all'esterno Piccaccio, J-Day. Nell'ossia di Piccaccio, J-Day e Passione Car, che si porta presso Patrio Wise, primi 600 metri in 44,7. Non è mancato il ritmo. In questa prima parte di gara si va sulla penultima curva con in vantaggio Planeta. Davanti a Prodizio e Patti, Patti che allarga. Allora, questa scoperta allargo, Piccaccio, J-Day, si porta presso, Passione Car, e poi Patrio Wise. 800 in un'unica appena abbondante. Inveco della retta a portare alle tribune, Planeta al comando, Piccaccio all'esterno di ventre Prodizio, davanti a Pepperwise, allargo Passione, che sposta il terzo al chilometro in una sedia situazione. lo scatto del Passione al calcio, appunto sul pianeta, di ventre sempre Prodizio, altra bandiera bianca, Piccaccio, aggirata anche da Patrio Wise, 400 alla conclusione, Planeta e Passione alle trese, poi Prodizio e Patrio Wise, quindi Patrio Wise, gli altri sono ormai fuori corsa, taggono la corsa conclusiva con Planeta alla corda, all'attacco di Passione, Patrio costata in terza, Prodizio che cerca spazio, passa in vantaggio, Passione Car, inseguita da Patrio Wise, Passione e Patrio Wise in lotta, le battute conclusive e scilla a palo, Patrio, su Passione e...